Attilio Castanuovo ha riconfermato alla segreteria, è una soddisfazione quali sono i nuovi obiettivi e programmi per il nuovo mandato? In realtà non è una riconferma, perché io nella volta precedente ero semplicemente subentrato al vecchio segretario, io ero vice, in qualità di vice ho portato avanti il progetto dell'Udc, e in qualità di coordinatore ho portato avanti il progetto dell'Udc, dell'Unione di Centro verso il Partito della Nazione che è approdato a questo nuovo congresso. Da oggi mi sento addosso alla responsabilità di portare avanti un progetto importante per quello che riguarda la nostra provincia, il nostro territorio, per il progetto non più bipolare ma non terzo polista ma nuovo polista e con questa nuova idea della politica della società italiana vogliamo andare avanti. Lo scenario politico che accennava lei non è molto chiaro, è una fase di trattative, voi come vi collocate nella provincia lecchese? Nella provincia lecchese non abbiamo in questo momento delle scadenze immediate, quindi non è un problema che ci poniamo in realtà, in questo momento ci poniamo invece l'obiettivo di strutturare, di definire la struttura del partito e di portare avanti questo nuovo messaggio che tra due poli spesso rissosi ci deve essere una nuova via, una nuova possibilità che dia alla gente la possibilità appunto di ritrovarsi. Come accennava in questo nuovo polo sembra che assuma sempre di più un suo valore quasi da mediazione o di calciomercato, di attrazione dall'uno o dall'altra parte, vi sentite gratificati? No, per niente, perché non è il nostro credo, non è il nostro obiettivo, non siamo nati per questo, noi siamo nati per unire, per unire le forze laiche, le forze cattoliche, per unire il pensiero riformatore, il pensiero anche conservatore, ma soprattutto siamo nati per superare questa logica di due poli che ormai mi sembra abbiano molto poco da dire, che cercano di attrarci di qua o di là, noi stiamo bene dove stiamo. Sul territorio lecchese come vi proponete rispetto a Fli? No, Fli è un nostro alleato, come lo è l'Alleanza per l'Italia, io adesso sto ragionando in termini di nuovo polo, non più terzo, non saremo terzi a lungo, lo vedo forse molto più avanti, lo vedo come primo, e comunque nuovo, non terzo. E in questa ottica, in questa logica, Futura Libertà per l'Italia è un nostro alleato, alleanza per l'Italia è un nostro alleato, con loro stiamo facendo, portando avanti una battaglia a livello nazionale. Voglio ricordare che tra un mese, poco più, no, meno, anzi, il 19 di novembre a Verona avremo la convention del terzo polo per quello che riguarda il nord, che si chiama il nord tradito, come riappropriarci del nostro territorio al di là di tutte le speranze e di tutte le promesse, ahimè, tradite. Grazie.